Nel corso dell'ufficio di presidenza di ieri dell'incontro al Consiglio Nazionale di oggi si è discusso di SDO, schede di dimissione ospedaliera. L'obiettivo è quello di dare degli strumenti a tutti i soci perché attraverso le schede di dimissione ospedaliere si riesca a dare un'immagine precisa e più dettagliata della complessità e della qualità del lavoro che noi produciamo. È un obiettivo che stiamo ponendo da diverso tempo, che stiamo perseguendo attraverso una serie di incontri anche con il Ministero e che speriamo possa consentirci nel tempo di dare una lettura più importante di tutti i dati di attività nell'ambito della disciplina della fisiatria.